Avevano razziato cantieri e negozi mettendo a segno quattro colpi in serie, tutti in Val di Chiana. Adesso i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni e una giovane di 22 anni, entrambi napoletani, mentre stavano tentando di raggiungere l'autostrada del sole dopo la lunga scia di furti, messi a segno in cantieri edili e in negozi tutti tra Camucia, Lucignano, Marciano e Fogliano della Chiana. I due ladri stavano appunto tornando dall'ultimo ride quando sono incappati in un posto di blocco nelle vicinanze di Bettolle. All'alt, intimato dai militari, l'uomo alla guida ha accelerato bruscamente ed è scappato, molto probabilmente intenzionato a raggiungere il casello della 1 di Val di Chiana. I carabinieri, dopo un rocambolesco inseguimento, sono comunque riusciti a stringere l'auto ad un muro e a interrompere la corsa dei due banditi. A bordo i carabinieri hanno trovato utensili per l'edilizia, due trapani e altro materiale. Per un valore di circa 12.000 euro tutto era facilmente rivendibile. L'auto inoltre era stata presa a noleggio in una società di Napoli. I due adesso compariranno di fronte al giudice del Tribunale di Siena per la convalida dell'arresto avvenuto in semiflagranza, visto che l'ultimo furto era stato messo a segno proprio nelle vicinanze del casello autostradale.